venerdì 11 novembre buongiorno a tutti ben ritrovati un cordiale saluto dalla redazione di fano tv questa è la rassegna stampa occhio ai giornali cominciamo come di consueto tutte le mattine alle 7.30 con la lettura del calendario il calendario con il santo del giorno oggi è san martino di tursi è stato vesco il sole è sorto alle 6 e 57 e tramonterà alle 16 e 47 per quanto riguarda le previsioni del tempo per la giornata di oggi nel nuovo sito della protezione civile delle marche leggiamo quelle che sono le previsioni da oggi ai prossimi due giorni per venerdì quindi per la giornata odierna come vedete il tempo è perturbato anche se ancora diciamo che possiamo godere di qualche ora di tempo sereno perché perché avremo un cielo parzialmente nuvoloso durante la mattinata però poi oggi aumenterà dalla tarda mattinata di oggi la nuvolosità e quindi il resto della giornata prima dalle zone interne poi lungo la costa dal tardo pomeriggio in maniera molto più intensa avremo delle precipitazioni sparse su tutta la regione e questa sera avremo rovescio temporali lungo la fascia costiera centro settentrionale che significa dal conero fino a tutta la costa adriatica spiagge di velluto compresa poi la fano pesaro e gabice quindi attenzione a questi temporali il limite delle nevicate sarà intorno ai 1700 metri oggi poi scenderà per effetto anche dell'abbassamento delle temperature fino a 1000 metri dal tardo pomeriggio ci sono anche i venti in intensificazione lungo la costa per la giornata di oggi fino a vento teso e grafiche fino a burrasca in nottata quindi il peggioramento intenso per la giornata di oggi dal tardo pomeriggio lo ripeto serata nottata con venti di burrasca lungo tutta la fascia costiera queste sono le previsioni per oggi domani invece il tempo cambia vedete avremo ancora residui rovescio temporali mattinata poi del pomeriggio il tempo migliore domenica lo stesso domenica 13 novembre avremo una giornata inizialmente poco nuvolosa poi nel pomeriggio aumenteranno un po le nuvole il peggioramento però torna lunedì con possibilità di qualche debole precipitazione però poi il tempo migliorerà questa dunque il panorama ma l'attenzione soprattutto è focalizzata per la giornata di oggi con piogge vento e neve sui monti il resto del carlino a prima pagina cominciamo con i giornali allora il padre e la figlia ladra questa è la notizia che è in prima pagina con la fotonotizia arrestato dai carabinieri un pesarese disoccupato che grazie alla figlia di dieci anni ha messo a segno diversi furti in negozi e lui si è giustificato dicendo è colpa della crisi sotto la testata invece sarà montecitorio l'anteprima della fiction sulla guato a luci annibali su richiesta della presidente della camera boldrini il film tv in programma su rai 1 il 22 di novembre nuova banca marca invece sotto nelle braccia di ubi ma il piano di acquisto dei tre istituti salvati porterà a centinaia di esuberi andiamo sulle pagine interna pagina di fano del resto del carlino eccola qua in pochi al giubileo della scuola il vescovo trasarti dice penso alle sedie piene solo 50 persone il vescovo dio vi invita a sognare chi si aspettava una folla oceanica di giovani è rimasto deluso una cinquantina di persone appena di cui la metà adulte ha risposto all'appello del vescovo di fano trasarti per il giubileo della scuola di ieri pomeriggio un appuntamento di preghiera e riflessione sulla gioventù e il ruolo della scuola rivolto a tutti gli studenti ed insegnanti della diocesi di fano fossombrone cagli e pergola domani l'addio al nonno morto cadendo dalla bicicletta domani mattina alle 10 nella chiesa del vallato si svolgeranno i funerali di costantino nigra da tutti i conosciuti conosciuto come tino ed è il nonno deceduto mercoledì pomeriggio in viale italia a causa di una caduta in bicicletta la colonna sonora del carnevale sarà un antico spartito dedicato alla è un antico spartito delicato dedicato alla città il maestro morosi ritrova una marcia storica del 1889 vedete il maestro morosi insieme al presidente alla presidente della ente carnevalesca maria flora gian marioli un brano scoperto dopo un grande lavoro un lavoro importante per il lato storico e culturale del carnevale ha commentato alberto berardi storico intellettuale fanese da anni legato alla manifestazione e figlio dello storico maestro della musica arabita dop andiamo a cartoceto aprire a 22 comuni vedete il sindaco di cartoceto enrico rossi che dice allargare l'area entro il 2017 è fondamentale il sindaco parla del futuro della denominazione dell'olio sapete bene che cartoceto ha l'unica dop dell'olio in tutta la regione domenica al balì invece sarà un enigma una delle postazioni del museo del balì in questa si vola si chiama domenica frendle l'unica l'ultima trovata del museo del balì che si trova a saltara poi terremoto al via una commissione che dovrà verificare la stabilità di alcune strutture di alcuni edifici di patrimonio del patrimonio storico monumentale religioso della diocese di fano fossumone cagli e pergola il vescovo trasarti l'ha istituita per sottoporre a verifica appunto tutto il patrimonio storico poi aiuti per i terremotati che per il sisma arrivano anche dalla profil glass si sono privati di un'ora di lavoro in busta paga i 631 lavoratori della profil glass per donare questi soldi ai terremotati e l'azienda ha poi raddoppiato la cifra raccolta dunque 15.300 euro il don lo denuncia per stalking siamo sempre sulle pagine del carlino sfinito dalle intimidazioni un parroco manda alla sbarra un 26enne il giovane pensava che ci fossero le cimici nei lampadari il suo legale ha chiesto una perizia psichiatrica era convinto che quel prete stesse facendo di tutto per farlo entrare in seminario contro la sua volontà e questa è la storia di un 43enne parroco di una chiesa nell'entroterra pesarese non viene non viene detto quale ma insomma questo è il 26enne invece è un 26enne albanese poi vedete la fotografia invece di questo camion che si è ribaltato ve lo abbiamo fatto vedere anche ieri sera nelle immagini del telegiornale avrete le repliche alle 11 e alle 13 e 45 circa allora schianto silicone versato in a 14 un'auto cisterna che si è ribaltata tra fano e pesaro subito dopo la galleria di novilara in direzione sud ferito lievemente anche il conducente l'autista un camionista 57 anni che è stato portato in ambulanza al pronto soccorso di fano la prima pagina invece del corriere adriatico la vediamo subito comuni tanta voglia di fusione sfida alle fazioni dei campanili domenica domenica prossima in 15.000 saranno al voto per far nascere colli al metauro e terre roveresche allora approfondiamo soltanto qualche secondo domenica prossima lo ricordiamo 13 novembre chiamata alle urne per quasi 15.000 elettori pesaresi sono 14.581 per la precisione dopo domani infatti i cittadini di saltara sera ungarina e monte maggiore al metauro dovranno esprimersi pro o contro la fusione nel comune unico di colli al metauro anche i residenti di piagge barchi orciano e san giorgio di pesaro voteranno referendum per l'aggregazione nel comune unico che si chiamerà terre roveresche si tratta della terza fusione nella provincia di pesaro poi fallimento tombolini non veste più l'appello di fiorella fateci lavorare per pagare i creditori sentenza del tribunale di macerata l'azienda di abbigliamento chiude i battenti questa è la foto in prima pagina sull'edizione pesarese del corriere adriatico da fano invece ladri al king sport ma il colpo va in fumo furti in calo grazie ai nebbiogeni banda in fuga alla vigilar dice boom di sistemi di allarmi simili ne installiamo tre al mese cioè sono quei sistemi anche qui vi abbiamo fatto vedere come funziona ieri sera nel telegiornale sono quei sistemi che praticamente come entri ti spara tutta questa questa nebbia questo fumo intenso intensissimo che impedisce ai malviventi di vedere da qui a mezzo metro e quindi impossibile portare via o rubare in condizioni simili e quindi questo è quello che è successo l'altra sera alla king sport di bellocchi di fano domani l'addio il nonno morto in bicicletta con la nipotina lo abbiamo già detto ci sarà alle 10 nella chiesa di santi pietro e paolo al vallato l'ultimo saluto a questo sfortunato nonno appunto che è morto mentre in bicicletta mentre riaccompagnava a casa la nipotina di otto anni andiamo adesso invece sull'altra pagina del corriere aeroporto una risorsa una risorsa aggravata dai debiti fanno un fortuna il presidente belli ha lasciato perplessa la commissione di controllo e garanzia passivo ereditato di 110 mila euro ma bilancio consumtivo in pareggio l'obiettivo sarà la pista in asfalto minimizza la possibile cessione delle quote da parte della camera di commercio cucurano baby gang in azione tavolini bruciati panche nuove subito divelte e super alcolici residenti chiedono aiuto critiche anche alla viabilità di vieti non rispettati auto parcheggiate sopra i marciapiedi dalla valle del cesano task force per una diocesi sicura la decisione del vescovo trasarti stanziati 60 mila euro per effettuare la manutenzione degli edifici religiosi marotta una storia tutta da cantare il circolo culturale è maggiorenne appuntamento domenica sarà un anno ricco di eventi alla scoperta del passato l'appuntamento è alle 16 e 30 nella sala convegni della croce rossa dove la storia della città del garagolo il recupero della memoria saranno protagonisti di questa inaugurazione del diciottesimo anno sociale del circolo culturale di marotta da senigallia invece trovano la cassaforte svuotata giallo nella casa di due anziani nessun segno di frazione al forziere si pensa al lavoro di un'abile truffatrice mentre si parla anche dei mercati in centro storico a senigallia ecco lo shopping di natale tra gli eventi in calendario la fabbrica di cioccolato di cioccolato adesioni per le luminarie dalla pagina di pesaro primo piano invece tombolini shock siamo nella pagina delle marche fallite due società così tramonta la griff dei vestiti il tribunale di macerata chiude le aziende la proprietà fateci lavorare abbiamo visto dalla prima pagina fateci lavorare per pagare i creditori sull'ospedale unico ospedale pronto il documento il presidente della provincia tagliolini già raccolte oltre 30 firme per più la mano più della maggioranza nei prossimi giorni avverrà la consegna a ceriscioli della petizione per stralciare fosso sei ore l'ipotesi muraglia è alternativa ma fanno potrebbe dividersi su questa su questa scelta sisma due chiese ancora sono praticamente chiuse siamo sempre sul sul corriere adriatico di pesaro serve una verifica sulla cupola di san giovanni ma manca il mezzo adatto danni all'esterno e al controsuffitto al santissimo sacramento di novilare poi ancora sulla pagina di pesaro e provincia che delizie anche dietro le sbarre gli studenti incontrano i detenuti carcerati e studenti del santa marta studenti dell'alberghiero al lavoro insieme sul ricettario che si può usare in cella l'ispirazione è nata dal libro di matteo guidi sul penitenziario e poi l'ultima pagina è quella da urbino terminati i lavori sui viadotti siamo a fossombrone la strada torni adesso a pieno regime i cittadini scrivono all'anas basta con le strozzature cioè i ristringimenti sulla fano grosseto e davvero dopo tanto tantissimo tempo finalmente torna ad essere percorribile senza ristringimenti senza strozzature appunto il tratto della superstrada sia verso roma sia verso fano è stato un intervento complesso per l'allargamento di due ponti con che con misure che non erano più a norma però insomma ci sono venuti davvero troppo tempo adesso io non sono un tecnico ma davvero tantissimo tempo la rassegna stampa finisce qui è finita grazie per averci seguito vi ricordo stasera appuntamento con il telegiornale alle 20 e 30 e poi il nostro sito internet occhio alla notizia punto it dove potrete leggere ed essere sempre informati quasi in tempo reale su tutto ciò che accade a fano e nel territorio grazie per averci seguito e buona giornata a tutti grazie per averci seguito